Una movida sicura che non stravolga la sua natura vocata al divertimento è possibile con quello che è stato definito il modello Fossacesia. Ingressi gratuiti agli eventi per chi guida la macchina e non beve alcolici, trasportando in sicurezza chi invece deciderà di concedersi qualche drink. La campagna Se Guido, non bevo e non pago, nata da un'idea del supporter beach di Fossacesia Marina in collaborazione con le forze dell'ordine, si avvale del sostegno dell'amministrazione comunale, capitanata dal sindaco Enrico Di Giuseppe Antonio. Perché questa iniziativa la sosteniamo? Perché comunque la nostra è una cosiddetta movida tranquilla, serena, c'è qualche birichino di troppo che ogni tanto guasta la festa, però insomma noi siamo in una condizione di essere un po' considerati la nuova stella della movida abruzzese, questo ci fa piacere perché la movida è rivolta sostanzialmente ai giovani, i quali giovani devono comportarsi bene, ma torno a ribadire si comportano benissimo, si divertono, ovviamente sono occasioni sociali per fare amicizia, per stringere nuovi rapporti, oltre al ballo e al divertimento. Però noi dobbiamo garantire che queste iniziative non possano diventare insicure e antisociali, ma non lo sono, torno a ribadirlo. Donato di Campli, di supporter, ci ha proposto questa iniziativa per accogliere chi non beve, cioè soprattutto chi guida la macchina non deve bere perché potrebbe essere sottoposto a sanzioni pesantissime anche sul piano penale. Quindi un invito a vivere questa stella del firmamento della movida e del divertimento senza farla spegnere. Il braccialetto, che sarà assegnato agli autisti che entreranno gratuitamente agli eventi, sarà un lascia passare in ingresso e in uscita, fungendo così da deterrente anche per possibili furbetti che, sprovvisti del braccialetto, saranno costretti a pagare all'uscita. La campagna di sensibilizzazione per una movida sicura del supporter beach è stata presentata in conferenza stampa, insieme al cartellone degli eventi estivi che tra luglio e agosto avranno per protagonisti artisti di fama nazionale e internazionale, come ha spiegato Donato di Campli, del supporter beach di Fossacesia Marina. Abbiamo deciso di intraprendere questa iniziativa. Chi guida non beve ed entra gratis, quindi sarà munito di un braccialetto, quindi sarà assolutamente ricomunoscibile dentro al locale, ma anche tutti gli altri locali della costa possono aderire a questa iniziativa per poter poi tornare a casa a fine serata tranquillamente senza nessun tipo di problema. Inoltre metteremo a disposizione delle navette da tutti i centri più importanti dell'Abruzzo per raggiungere il luogo dell'evento che è qui a Fossacesia, perché abbiamo preparato un programma importantissimo e che vedrà qui nella costa dei Trabocchi i più importanti cantanti italiani e anche esteri. Qualche anticipazione di questo programma? Siamo già partiti, però i nomi più importanti saranno J-AX, che arriverà il 6 agosto, Fred De Palma, Salmo, ce ne sono tantissimi. Tutto il mese d'agosto sarà costellato di eventi importantissimi che faranno di Fossacesia tra le prime cinque località con questi eventi in Italia.